In dentro, non in dentro, cioè con calma Vabbè, siamo a metà A cosa mi servono queste gambe se non mi portano da te? A cosa serve questa bella voce se non parla di te? A cosa serve farsi documenti se non mi riconosci più? O fare a pugni e spaccarsi i denti se tanto vinci tu? No, non serve avere un telefono se non rispondi Non servono le canzoni se non le ascolti Sorrido sempre ma non rido e non ti chiamo ma ti scrivo Ti sogno sempre ma non dormo, parto ogni giorno e non ritorno E tu vuoi uccidermi e salvarmi, darmi gli schiaffi e ricucirli Lasciarmi i segni con i denti e dirmi che ora è troppo tardi Ma siamo sempre qua Siamo a metà A cosa servono questi occhi verdi se non vedono te? A cosa servono due belle labbra se non vivono con te? A cosa serve un abito da sera se non te lo tolgo più? A cosa serve tutta questa guerra se tanto vinci tu? No, non serve avere un telefono se non rispondi Non servono le canzoni se non le ascolti Sorrido sempre ma non rido e non ti chiamo ma ti scrivo Ti sogno sempre ma non dormo, parto ogni giorno e non ritorno E tu vuoi uccidermi e salvarmi, darmi gli schiaffi e ricucirli Lasciarmi i segni con i denti e dirmi che ora è troppo tardi Ma siamo sempre qua Siamo a metà Caro Lucio ti scrivo Perché non ho niente di meglio da fare Di uscire fuori non se ne parla E lo so che tu sei ottimista Ma io proprio non ce la faccio L'anno che verrà mi mette paura E ho pensato che fosse giusto rispondere ai tuoi pensieri Se qui non è così diverso da ciò che descrivevi ieri Avrei bisogno di un consiglio da te E so che non potrei rispondere Ma avevo bisogno di tentare Caro Lucio ti scrivo Perché in cielo non ci sono più ale Sono scomparsi anche i fili delle radio Tanta paura Non solo per gli altri ma anche per me stesso Non sono più me stesso Da troppo tempo ho perso il tempo Ho perso me Avrei bisogno di un consiglio da te E so che non potrai rispondere Ma avevo bisogno di tentare Come fa scuola a zon Ma avevo bisogno di langer caro Lucio ti scrivo perché non ho niente di meglio da fare di uscire fuori non se ne parla